Canigati prenderà il via entro fine mese il corso per assaggiatore di vino. Professor Camarata. Sì, intanto voglio ringraziare TRC per l'opportunità che mi dà di fare questo piccolo langio. Abbiamo questo corso per assaggiatore di vino organizzato dall'ONAV. L'ONAV è Organizzazione Nazionale Assaggiatore di Vino. Inizierà a fine mese. La prossima settimana faremo la prima riunione di presentazione e di lancio. Il corso consiste in 18 lezioni più l'esame finale teorico-pratico. Ogni lezione c'è una lezione teorica e poi ci sono le degustazioni pratiche guidate. Alla fine si consegue una patente. Questa patente abilita a fare l'assaggiatore di vino. e quindi anche poter partecipare alle commissioni di esame oppure le commissioni che ci sono alla regione, quelle per i concorsi, eccetera. E poi consente di avere una conoscenza più approfondita del mondo dell'enologia e quindi anche come consumatore si diventa dei consumatori avveduti. Cioè che quando parlano o hanno a che fare col vino sanno cosa dire e sanno soprattutto come giudicarlo. Io vorrei sollecitare chiunque è interessato a seguire questo corso a farsi vivo con me il numero di telefono che magari faremo comparire sotto qui nell'annuncio oppure andarsi ad iscrivere presso l'enoteca Artevino in via Calalberto mi pare che si chiama. Il corso sarà diretto dall'enologo Gianni Giardina che è di Cani Cattivo e tutti lo conoscete. Il corso è in parte sponsorizzato dal comune che ci darà anche la possibilità di avere una sede dove farlo. Penso che sarà verso il complesso Badia mi pare cioè a Borgalino mi pare che... Ecco, presso la segreteria di via Carlo Alberto contattandomi direttamente potrò anche essere più preciso riguardo quelli che sono i costi. Le lezioni si terranno di giovedì e di venerdì la sera cioè dopo le otto e mezza dalle otto e mezza verso le dieci ci saranno questi corsi e queste lezioni. Alla fine avremo 18 occasioni per stare assieme attorno a una bevanda di cui siamo tutti diciamo in qualche modo innamorati è una bevanda antichissima, una bevanda che fa cultura una bevanda che consente anche di stringere amicizie di parterne parlare, cioè di socializzare quindi è una bellissima esperienza che io mi permetto di consigliare a tutti. Io sono il delegato provinciale dell'ONAP in questo senso vi sto parlando per questo motivo quindi vi ringrazio tutti, ringrazio la televisione e speriamo di vederci al più presto a fine mese attorno a dei bicchieri di vino per poterne gustare e poterne anche discutere e anche approfonditamente. Grazie. 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 Grazie.